Buongiorno buongiorno e ben trovati con l'appuntamento con la nostra rassegna stampa mattutina in questo giovedì che ci avvicina alla weekend in questo giovedì 7 settembre dove noi andiamo come sempre a leggere i titoli che sono quelli dei quotidiani nazionali e locali però uno sguardo prima alla prima pagina del sito dell'Ansa che titola nella foto centrale operazione antimafia in tutta Italia 84 misure cautelari carabinieri del comando provinciale di Viva Valencia impegnati nell'operazione antimafia maestrale Cartago questo è il titolo principale nelle ultime ore alle 7 e 18 operazione interforze a Roma e Napoli 800 uomini in campo con sempre una struttura importante messa a disposizione alle 5 e 57 si parlava di US Open Zverevev KO Alcarazin semifinale con Medvevev Ucraina due droni abbattuti sulla città russa di Rostov sul Don in Perù altro rimpasto di governo cambiano sei ministri prima ancora in Messico Shane Baum è candidato partito governo alle presidenziali adesso andiamo a leggere come da programma quelli che sono invece i quotidiani partendo ovviamente dalla segna stampa nazionale che apriamo con Repubblica baby gang crociata di Salvini contro le baby gang il leader leghista se un ragazzino uccide deve pagare come un adulto pronto un decreto contro la violenza minorile tra le misure repressive il DASPO con divieto di telefonino e il carcere per i genitori che non mandano i figli a scuola l'ipotesi della mezza manovra taglio al cuneo solo fino al voto dell'unione europea Ucraina strage al mercato 17 morti allerta Nato in Romania queste le foto drammatiche del conflitto che continua tra ovviamente Ucraina e Russia proseguiamo con il Corriere della Sera manovra stretta sui conti la premier priorità a lavoro e sanità Giorgetti salta il vertice scontro tra Salvini e Gentiloni baby gang arresto in flagranza dai 14 anni in poi e l'ipotesi anche di vietare il cellulare addio a Giorgio la sorella Napoli sei tu questa è la foto centrale ovviamente la disperazione della folla ma ai funerali la madre oggi vedo Meloni ovviamente per quanto riguarda il musicista ucciso la stampa che titola anch'essa sul baby gang stretta sui reati giovanili il daspo per le baby gang con anche dai 14 anni in su la possibilità di essere arrestati come avevamo letto prima essere privati dei cellulari per i violenti carcere poi anche per i genitori che non mandano i figli a scuola bombe sul mercato mosca la rivolta dei professori il gazzettino anche gli titolano titola minori violenti via il cellulare stretta sui baby reati che diventa un po' l'argomento ovviamente che stiamo andando a ritrovare un po' in tutti i quotidiani la stretta voluta da Salvini proprio per evitare la violenza ancora di più a livello minorile pendolari della salute Veneto ai primi posti con Emilia Romagna e la Lombardia è la regione che attrae più pazienti in Friuli i medici stranieri referti bizzarri l'ospedale assume un traduttore il manifesto ovviamente parla del fronte della gioventù arriva in consiglio dei ministri del decreto contro i baby gang il governo se la prende con i social e gli smartphone dei ragazzini è l'ultima legge spot sull'onda dei fatti di cronaca da piazzare nella trincea della destra e ovviamente anche il manifesto parla della folla dei missili sulla folla 17 morti per quanto riguarda l'attacco alla città di Kostantivnik nella zona di Donetsk in Ucraina scuola e galera per i baby criminali Salvini se il ragazzo uccide deve pagare come un cinquantenne e da aspo e pene più severe per i minorenni e ovviamente come detto pena anche per chi non manda i figli a scuola più personaggio che atleta la enogu rovinata dagli antirazzisti notizie fuorvianti su Cutro la procura accusa l'agenzia dell'unione europea un'altra botta alla tesi della strage di stato Draghi e le regole europee sciagura per l'economia l'ex premier a rischio i nostri interessi il foglio va a titolare Zingaretti elogia Schlein dal palco della festa del PD poi scende confessa con questa non prendiamo manco il 17% Draghi fratello d'Italia contro l'euro regione titola il giornale l'ex premier interviene a sorpresa sull'economist l'Europa non torni al patto di stabilità bisogna adesso cambiare un assist all'esecutivo Meloni il sindaco di Lana frecce irrispettose dei tedeschi l'ultima provocazione alto a desina il vertice di maggioranza manovra uccisa dalla bonus il governo alza il deficit al 5% la verità che va a parlare Brigate Verdi sbarco a Milano e arrivano gli insulti alla Papa ecco chi tra la volata ai provvedimenti ecco chi tira la volata ai provvedimenti che ci impoveriscono la politica legittima e questi sono i risultati nel capoluogo Lombardo il convegno dei residenti climatici tra proclami deliranti e promesse di lotta ce ne pure per Francesco pregare inutile abbia più coraggio case green e tassi alti pure in Francia crolla l'immobiliare grazie all'Unione Europea abbiamo i leader sbagliati poi è il titolo con le due foto rispunta grill e parla cinese non è vero che Pechino inquina Trump in campo con gli operai l'auto elettrica un disastro TV e spot Mediaset da ordini il governo esegue ad azienda emendamenti al Freedom Act europeo contro Netflix e Company il gruppo pretende modifiche alle nuove regole dell'Unione Europea alla destra le copia e il biscione d'estate batte la Rai Cappotto all'italiana titola l'identità del direttore Tommaso Cerno il super bonus per efficientare le case mette in ginocchio il paese per colpa di quei 100 miliardi la manovra ora ne ha solo 8 pochi spiccioli rispetto alle esigenze reali dell'Italia altro che tagliarsi gli stipendi in Parlamento era meglio attaccare i cervelli e ora è già scontro fra i partiti per le briciole chiudiamo ora la nostra rassegna nazionale con i sole 24 ore banche e ambiente stress test BCE più default se la transazione è lenta tunnel del bianco Italia e Francia studiano il raddoppio l'intelligenza artificiale corre con le versioni specializzate e ovviamente adesso noi ci spostiamo a leggere sul messaggero di Udine a cominciare dal messaggero di Udine quella che è la cronaca ovviamente locale acqua, piano, antisprechi, vertice in regione, pozzi, artesiani e agricoltura dal 30 novembre le norme sul risparmio contributo per i dispositivi è il giorno di Friuli Doc novità e tradizione oggi comincia la grande festa ovviamente che richiama appassionati di Udine e non solo da oggi a domenica quattro giorni dedicati alla rassegna di Friuli Doc in cronaca, sporcizia e bivacchi nell'ex albergo Europa in borgo stazione, comune e capitaneria niente ombrelloni o lettini a Bau Beach per quanto riguarda poi la sezione di Udine l'inizio della scuola con poco personale negli istituti mancano i bidelli addetti alla segreteria i tecnici sono almeno il 25% in meno De Nardo i carichi di lavoro degli uffici sono importanti e la sorveglianza è fondamentale quindi si fatica a trovare personale il messaggero di Pordenone adesso eccolo qua che arriva anche qui ovviamente il titolo è dedicato al piano antisprechi per l'acqua Pordenone auto nel canale un anziano perde la vita un ex falegname di 89 anni di Porcia Giuseppe Vazzolera è morto ieri il 10.30 dopo che l'auto di cui era la guida è finita in un canale lungo la strada che costeggia il lago Burida per cause che sono ancora in corso di accertamento da parte della polizia locale l'uomo ha perso il controllo dell'auto e dopo aver abbattuto una rete di recinzione è finito sott'acqua con la sua Hyundai Vani i soccorsi del personale medico infermieristico ed i vigili del fuoco e proprio riguardo all'auto nel canale questo incidente di cui stiamo parlando abbiamo il servizio per andare a raccontare cosa è successo ha perso improvvisamente il controllo della sua auto una Hyundai nell'affrontare una curva è andato dritto ha abbattuto una rete di recinzione ed è finito nel canale vicino al lago ha perso la vita così Giuseppe Vazzoler 89 anni di Porcia a seguito dell'incidente che l'ha visto protagonista nella mattinata di oggi mercoledì 6 settembre attorno alle 10.30 in via Burida la strada che costeggia l'omonimo lago e che collega la città a Porcia cittadina dalla quale proveniva a bordo della sua vettura probabilmente è un malore di stato fatale subito sono stati allertati i soccorsi giunti sul posto con il personale medico i vigili del fuoco con i mezzi provenienti dal comando provinciale di Porrenone e poi in elicottero da grado con il nucleo sommozzatori la squadra Spello Alpino Fluviale ha individuato la vettura adagiata all'interno del canale utilizzando un gommone da rafting ha raggiunto il mezzo estratto Vazzoler che si trovava nell'abitacolo portato a Riva l'89enne è stato subito soccorso dal personale sanitario che ha eseguito le manovre di rianimazione che purtroppo però hanno avuto esito negativo e il medico ha constatato il decesso nel frattempo l'elicottero del reparto volo di Venezia con due sommozzatori a bordo ha permesso le operazioni di recupero per verificare che all'interno del veicolo non vi fossero altre persone sul posto per rilievi dell'incidente la polizia locale di Porrenone e Porrenons sono state ultimate attorno alle 13 le operazioni di recupero dell'auto lungo la strada che costeggia il lago e che si snoda tra il confine di Porrenone e Porcia nell'aprile scorso un'altra persona un ragazzo di 29 anni era morto annegato e una donna di 24 era stata ricoverata in ospedale in ipotermia assieme al poliziotto che aveva cercato di salvarli per un incidente simile accaduto in un'altra zona poco distante sempre adiacente al lago della Burida una zona non fortunata questa per quanto riguarda gli ultimi mesi procediamo con le cronache vi stavamo leggendo la prima pagina del messaggero di Porrenone rogo a Pasiano bruciate due auto di indiani SIC barricato per 50 ore i carabinieri studiano il caso di Cordova per quanto riguarda poi la pagina dedicata a Porrenone l'ex culla del start up Villa Catania è chiuso ormai da tre anni una gestione che nessuno vuole finora sono stati vani in tentativi di attribuirle una funzione uno dei 300 immobili del comune proseguiamo con il piccolo nella nostra sezione di Trieste terzo mandato per il governatore l'aula avvia l'iter in capigruppo il tema delle modifiche alla legge elettorale tra ipotesi fedriga terra voto di genere e nei comuni tolto il crocifisso nella circoscrizione fratelli d'Italia attacca i democratici di odci bus il bomber dello stretto diventato immobiliarista bus tutte le novità poi dell'autunno per quanto riguarda Trieste e ovviamente per concludere andiamo anche a dare un'occhiata a quello che è il piccolo della sezione di Gorizia che ovviamente non cambia nel suo titolo per il governatore con l'iter per il possibile federica terra cambia però immagine drone dei vigili con lo status di aereo slitta ancora la mensa universitaria pasti preconfezionati patto tra Villa Russiz e Barcolana in collio sul sociale e turismo e questa è ovviamente la mensa universitaria che sta slittando nelle due sedi di Gorizia ancora pasti preconfezionati manca il certificato di prevenzione incendi in via aviano servizio a chiamata anche a Santa Chiara adesso ovviamente apriamo la nostra pagina sportiva in questi ultimi minuti che ci separano dalla fine in cui dobbiamo andare appunto a parlare di sport e apriamo con la gazzetta l'Inter fa il pieno dopo l'ennesima vittoria per 4-0 sulla Fiorentina una giuria speciale vedi nera azzurri campioni in zaghi quest'anno non può fallire da Sacchi a Capello dieci super esperti votano all'unanimità e spiegano ecco perché Lautare Compagni sono i favoriti per il titolo ma è 1-0 per Pioli Simone vince segna di più però il milanista ha conquistato uno scudetto tra i due ovviamente il titolo irritato l'ha ottenuto l'allenatore del Milan e nel riquadro in basso Spalletti cambia tutto nei primi giorni di allenamento con la nazionale che punta ovviamente la qualificazione all'europeo sabato contro la Macedonia più dialogo fuori più pressing in campo quante differenze con l'era Mancini chi ha paura della Juve questo invece è il titolo dell'altro quotidiano nazionale sportivo il Corriere dello Sport due arrivi tante uscite a cosa punta il club Vlaovic la verità sulla cessione voluta e poi però mancata la carica di Garzia Napoli all'attacco questa Lazio non è più cenerentola invece dice il patron Lotito dopo la prima vittoria in campionato degli uomini di Maurizio Sarri che sono riusciti a togliersi dalle zone più basse della classifica vincendo proprio a Napoli perché la Roma è sotto schiaffo il mercato delle big è andato ad analizzare anche quello della squadra di Jose Mourinho che però adesso almeno dal punto di vista del campo sta deludendo processo a Roma inchiesta prisma la Cassazione dà ragione alla Juve negata la competenza territoriale alla procura di Torino attenti alla Juve ed è l'anno del toro costa corte esclusivo l'Inter la più forte il Milan ha un bel gruppo ma alla fine la Juve è sempre la Juventus queste le parole dell'ex difensore del Milan derby totale in ballo anche Jonathan David tra Inter e Milan con le ultime già proiettate sul mercato per quando riguarda gennaio con la stella del Lille che vorrebbe sia la squadra nell'azzurra sia il Milan e ovviamente c'è anche la sfida proprio per la seconda stella per il ventesimo Scudetto venendo invece alle notizie relative allo sport friulano parlando di Udinese Udinese ultima offerta a Pereira altro incontro tra l'argentino e il direttore dell'area tecnica Valzaretti è stato proposto al TUCU un contratto annuale niente club nelle coppe oltre all'Udinese resta soltanto la Sampdoria in Serie B che mette sul piatto però un triennale adesso ovviamente la palla aspetta proprio al TUCU con la Sampdoria che gli ha offerto appunto un triennale mentre era uscita nell'ultima ora anche la notizia di un interesse del Cagliari per quanto riguarda Pereira altrimenti resta vivo il Palmeiras che è ancora una pista percorribile anche se Pereira ha già detto di voler rimanere in Italia ha già detto anche no al Santos invece niente Turchia e ha chiuso la porta al Besiktas quindi resta la marcherita da sfogliare per Pereira si sta assottigliando prime istruzioni tattiche di Sottil a Davis e Pajero nell'allenamento di ieri un allenamento che ha insomma avviato in maniera decisa la prima delle due settimane di sosta in cui la squadra è vero è ridotta all'osso perché in molti sono andati con le nazionali questo deve essere ovviamente un vanto un po' meno per Sottil che sperava di avere tutta la squadra al completo comunque gli allenamenti sono intensi adesso Sottil in queste due settimane ha un obiettivo solo inserire dal punto di vista tattico e atletico Davis e Pajero e migliorare la condizione di chi era già ma deve ancora crescere dal punto di vista atletico come per esempio Isaac Sachs allora vediamo gli obiettivi della sosta dell'Udinese da qui alla trasferta di Cagliari la sosta a volte arriva proprio quando non dovrebbe arrivare quando stai correndo quando stai viaggiando a ritmi elevati ed è una sosta che in quel caso spesso e volentieri blocca le squadre le rallenta le fa perdere quel ritmo che altrimenti forse avrebbero anche mantenuto per sempre vedi l'Udinese dell'anno scorso che si aveva pareggiato nelle ultime tre gare prima dello stop per i mondiali ma che stava veleggiando a ritmi incredibili poi alla ripresa del campionato sappiamo tutti com'è andata ovviamente questa sosta invece è una sosta diversa una sosta più breve una classica sosta per le nazionali ma a prescindere dal tipo di sosta in questo caso lo stop per il campionato per l'Udinese è una manna sì perché la sensazione è che la squadra abbia bisogno di lavorare ancora tanto lo ha detto Sottil lo hanno fatto intendere anche i calciatori bisogna trovare i meccanismi oliarli ritrovare la fiducia e quella sinergia che si è vista sì ma solo a tratti tra Salerno e Frosinone una sosta quindi che Sottil avrà anche apprezzato perché gli permetterà di lavorare soprattutto con chi è arrivato più tardi ovviamente non stiamo parlando di Kirsten Sen e Tikvic che hanno visto il Friuli soltanto dall'aereo per lanciare le valigie e ripartire direzione nazionale ma parliamo per esempio di Keenan Davis e Martina Pajero gli ultimi due arrivati in ordine di tempo e anche quelli che per ironia della sorte forse sono proprio più pronti per aiutare la squadra fin da subito l'attaccante ex Astonville Watford dal punto di vista delle caratteristiche lo dobbiamo ancora scoprire ma è un giocatore ovviamente che ha già esperienze che può aiutare la squadra nell'alternanza con Lucca Martin Pajero invece è un classico giocatore fisico abile a buttarsi negli spazi che sua volta ha giocato in campionato importanti con maglie importanti come quella del Middlesbrough e quella del Boca Juniors una maglia che senza personalità un calciatore non la può indossare su di loro si concentrerà il lavoro di Mr. Sottil che punta la trasferta di Cagliari come gara quasi già decisiva per il futuro del campionato dei bianconeri oltre due citati comunque si lavorerà in questi giorni per migliorare la condizione di coloro che già erano presenti in Rosa ma che non stavano benissimo uno su tutti Isaac Sachsess dal quale ci si attende ancora il vero contributo che in queste prime gare abbiamo visto soltanto a Sprazi una sosta quindi che per Sottil arriva al momento giusto con la speranza di ricompattarsi riunire la squadra ritrovare le energie per cominciare da Cagliari un altro campionato eh sì questo è l'obiettivo dell'Udinese che deve iniziare veramente un altro campionato chi invece l'ha già cominciato l'altro campionato come vi avevo raccontato prima è la Lazio del presidente Claudio Rodito e del portiere Ivan Provedel casa Champions e sogni mondiali l'amico di infanzia Andrea Buriola racconta il portiere della Lazio ora anche in nazionale punta agli europei e poi a chiudere il cerchio con la maglia azzurra Missoni vince ancora Ierep non riesce a battere il record sui 500 metri fallisce l'assalto del primato dello stilista che risale al 1940 alla trofeo Modena Remanzaco poi tanti altri ottimi risultati e sabato al meeting di Maiano ci sarà anche una squadra dall'Ucraina parlando di basket invece primi contrattempi per l'Apu All-Dual-West Udine Gaspardo out fino a fine mese ginocchio infiammato sarà al 100% per il campionato intanto stasera a Tolmezzo altra amichevole ecco il Rieca gesteco motore in rodaggio stiamo lavorando bene questo è il punto con Alessandro Petronio il preparatore atletico che non è preoccupato da alcuni acciacchi che hanno interessato i giocatori delle Eagles gestiamo i carichi di lavoro nella Supercoppa e per il campionato puntiamo a essere davvero al 100% il Gazzettino che va a raccontarci come cambia l'attacco con gli arieti Lucca e Davis il nuovo arrivato dalla Stonevilla il dopobeto non può far paura anche Vivaldo cresce dove ne sa muoversi dal secondo punto test sabato in famiglia contro la primavera addio a Ginulfi parò un rigore al grande Pelè l'ex giocatore dell'Udinese mancato nella giornata di ieri alle quali vanno i nostri più sinceri bracci alla famiglia la fede di mister Tedino il Pordenone risorgerà il tecnico di Corva ora a Trento ha appena vinto al Rocco il derby degli ex con Tesser con la Triestina sconfitta proprio dalla Trento lo visa ha detto che vuole far crescere ancora al club e sono certo che ci riuscirà Moro firma il nuovo record del Bottecchia la Zianese migliora di 11 secondi il primato di Galli sui 4 km la rappresentativa Friula Giuliana sul podio nel trofeo delle Regioni parliamo adesso anche proprio di Pordenone visto che abbiamo accanto abbiamo appena letto le parole proprio di Tedino il Pordenone ormai ha diciamo ufficialmente rinunciato a partecipare ai campionati senior non iscriverà la prima squadra non solo alla Serie D come era ormai chiaro da tempo ma neanche all'eccellenza l'obiettivo adesso è capire se il giudice permetterà almeno la continuità aziendale per poter andare avanti almeno con il settore giovanile vediamo finite le speranze il Pordenone dopo anni ad alti livelli in cui ha toccato con mano il grande calcio disputando tre campionati di Serie B dal 2019 al 2022 sfiorando addirittura la Serie A adesso non iscriverà la squadra a nessun campionato senior per la stagione 2023-2024 è venuta meno quindi anche l'ultima ipotesi di iscrizione all'eccellenza in sovranumero ipotesi che avrebbe di fatto inserito il club nero-verde al massimo campionato regionale con tre turni di ritardo è vero ma che avrebbe quantomeno garantito quella continuità aziendale considerata fondamentale e invece alla fine il Pordenone ha dovuto rinunciare una rinuncia dettata dal mancato accordo per il saldo del debito con i giocatori la proposta era di saldare l'85% del dovuto ai tesserati del club con il 30% ad avversare subito accordo che sembrava ad un passo ma che poi giorno dopo giorno per qualche motivo slittava sempre i rappresentanti dell'associazione italiana calciatori erano arrivati negli scorsi giorni a Pordenone proprio per tutelare i calciatori stessi non si sa cosa sia andato storto ma alla fine quello che è rilevante è che l'accordo è saltato e quindi finisce qua la storia recente del Pordenone che ha sognato in grande ma che alla fine si è dovuto arrendere ad una situazione che non era idilliaca già più da qualche anno Loviso però non molla e ha versato nelle casse del club una somma importante quanto meno per far capire ai giudici la sua buona volontà di migliorare le cose di migliorare una situazione che era diventata troppo difficile da sostenere il giudice ora dovrà decidere se garantire il concordato in continuità per permettere quanto meno al Pordenone di avere un settore giovanile da cui ripartire per poi perché no il prossimo anno provare anche a ricreare una squadra ai campionati senior in attesa di scoprire quello che farà il Pordenone l'Udilese Primavera ha scoperto invece i propri calendari con un campionato che inizierà il 16 settembre quindi non questo weekend ma il prossimo abbiamo parlato proprio con il tecnico della formazione under 19 bianconera Igor Bubnich che ci ha raccontato un po' le sue sensazioni a pochi giorni ormai dall'inizio ufficiale della stagione ascoltiamo qui con mister Igor Bubnich allenatore della primavera dell'Udinese andiamo a commentare un pochino la notizia che ha tenuto banco per quanto riguarda il campionato primavera nelle ultime ore è uscito il calendario finalmente si torna in campo è uscito il calendario della stagione 2023-2024 l'esordio dell'Udinese è in casa del Padova il 16 di settembre quindi ormai ci siamo manca poco buongiorno a tutti abbiamo visto con chi giochiamo abbiamo visto il calendario e sono molto contento perché finalmente inizia non posso aspettare perché lavoriamo bene ci prepariamo bene e penso che i ragazzi sono pronti per una nuova avventura quanto secondo te ci vorrà non solo per l'Udinese per un po' per tutte le squadre per essere al 100% dopo quante partite si dice in Serie A anche no che si vede la vera squadra dopo la sosta per le nazionali quindi le prime due tre giornate contano fino a un certo punto poi invece il campionato inizia ad essere vero è vera questa cosa anche a livello giovanile oppure tutti aspetti che la tua squadra sia già pronta grintosa preparata fin dalla prima non so se è vero non è vero però tutti noi sempre lavoriamo per essere pronti subito per prima partita in campionato secondo me cose importanti non devono mancare mai quella corsa grinta voglia tutto quello che devono mettere sempre non è che aspettiamo due tre partite che iniziamo a giocare secondo me dobbiamo essere pronti sempre io credo che non serve due tre quattro cinque sei partite per iniziare il campionato si inizia con prima partita e là devi mettere sempre tutto fino alla fine non so abbiamo visto mi hanno parlato un po' di squadre non è che sono tanto concentrato su altre squadre sono concentrato su noi sul nostro lavoro e se noi facciamo bene non dobbiamo avere paura di nessuno lo so che c'è una Parma una non so altre due squadre che sono sempre là primavera uno primavera due e fanno bene noi siamo una squadra giovane con anche due tre ragazzi 2008 o 2007 siamo qua per crescere però secondo me quello non c'entra niente noi quando siamo fuori su campo dobbiamo dare sempre il 100% e come dico io andiamo sempre a vincere tutte le partite che possiamo vincere Allora queste le parole di Igor Bubnich adesso prima di salutarci però un aggiornamento per quanto riguarda l'incidente stradale a Pocenia arriva direttamente dalla Sores del Friuli Venezia Giulia alle 7 e 10 una donna di circa 30 anni di età è stata soccorsa nelle prime ore di oggi intorno alle 6 del mattino dal personale sanitario per le ferite che ha riportato a seguito di un incidente stradale accaduto in via Aris nel territorio comunale di Pocenia per cause che sono ancora in corso di accertamento da parte delle forze dell'ordine ha perso il controllo della vettura che stava conducendo ed è finita fuori strada apparentemente nessun altro mezzo è coinvolto nell'incidente ed è riuscita a uscire autonomamente la ragazza dall'abitacolo dopo la chiamata di aiuto giunta alla numero unico di emergenza 912 gli operatori di questa sala operativa di primo livello hanno transitato la telefonata alla struttura operativa regionale emergenza sanitaria gli infermieri della Sores hanno inviato sul posto l'equipaggio di un'ambulanza proveniente dalla Tisana che ha preso in carico la donna per poi trasportarla con ferite non gravi all'ospedale di Ratisana sul posto i Vigili del Fuoco che hanno operato in piena sinergia con il personale sanitario e questo era l'ultimo aggiornamento adesso andiamo a vedere quelli che sono i programmi di oggi di TV12 prima di salutarci con il telegiornale in diretta ovviamente di cronaca alle ore 12 e alle ore 16 e anche ovviamente alle 19 e 15 alle 16 e 15 Pacific Blue alle 17 speciale Priuli Doc con la prima giornata proprio della rassegna di Priuli Doc che durerà da oggi fino a domenica per gli appuntamenti sportivi invece ecco qua c'è anche uno speciale poi sempre su Priuli Doc in diretta alle 21 e 15 per gli appuntamenti sportivi invece 17 e 45 con pomeriggio calcio e alle 19 con i Big Sport ora vi lascio alla Meteo grazie per essere stati nella nostra compagnia e vi auguro una buona giornata su TV12 Il Meteo è offerto da Prima Cassa Servizi bancari e assicurativi Amici di TV12 un saluto ben ritrovati a tutti da Vanessa Minotti di Trevi Meteo l'anticiclone africano continua ad interessare il Priuli Venezia Giulia anche per la giornata di giovedì a garanzia di condizioni di bel tempo clima caldo ma senza eccessi diamo subito uno sguardo nel dettaglio alla situazione attesa sulle province di Udine e Pordenone non mancheranno ampie schiarite per l'intera giornata minime intorno ai 16-18 gradi massime non oltre i 28-30 gradi per quanto riguarda la situazione attesa sul Goriziano e sul Triestino situazione che resterà invariata con ampi spazi assolati per l'intera giornata minime intorno ai 16 gradi su Gorizia 20 gradi su Trieste temperature massime che anche qui non andranno al di sopra dei 30 gradi tutti i dettagli in merito alla vostra località sull'app di Trevi Meteo il meteo è stato offerto da Prima Cassa servizi bancari e assicurativi a presto a presto Grazie a tutti.